Buon appetito, non ci voleva stamattina questa cosa eh Pronti Carabinieri, comandi? Qui pattuglia numero 5, sto con il collega Casino qua, veramente il casino Mai successo una cosa del genere Che è successo? In poche parole siamo entrati in macchina e ci siamo accorti che ci hanno freccato il volante tutto il cruscotto I pedali, pure i pedali Manco i pedali stanno L'acceleratore e i freni, tutti fanno fregato L'acceleratore, il freno e la frizione ci stanno proprio Manco freno a mano stai, tutti fanno... Proprio il lavoro fatto di classe proprio Mi piace, aiutatevi, venite qua e vedici a prendere che non è che potete rimanere da qui Sì, va bene, arriviamo subito Va bene, comandi, ciao Certo, non c'è più religione, voglio non si frega la macchina, si frega il cruscotto Com'è? Eh... C'è fatto? Vuoi provare a chiamarti? Evitiamo che venga Eh... Ma mi salviamo i salvabili Parle... 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 Pronto ma di fretta? Sono il maresciolo Dei Santi Sto col collega Sardella Niente, abbiamo chiamato... Cioè... Abbiamo chiamato prima che diciamo che ci avevano freccato tutto dalla macchina il volante, il freno al master, eh... Eh, niente, potete pur non venire. Vogliamo, diciamo, tranquillizzare. Non venite. Perché? Eh sì, no, perché ci siamo accorti che ci siamo seduti dietro. Ci siamo seduti dietro. Eh? Eh, state come? No. No, no, no.